Scarcerati e poi nuovamente arrestati. Tornano in carcere Enanienne Fauzi di 30 anni e Tom Faris di 24, i due tunisini che erano stati arrestati alla vigilia di Natale dalla Guardia di Finanza a Scoglitti. I due che avevano dei precedenti per droga da tempo venivano tenuti sotto controllo. Gli uomini delle fiamme gialle erano convinti che continuassero l'attività di spaccio. Il 23 dicembre i finanzieri sono entrati nella loro casa ed hanno effettuato una perquisizione. Hanno trovato 1600 euro in contanti, un grosso coltello a serravanico e proiettili calibro 7,65. Della droga però nessuna traccia, fino a quando qualcuno non ha deciso di cercare dietro un piccolo presepe. E qui è stato trovato un pacchetto con 80 grammi di ascici. I due tunisini vennero arrestati, poi rimessi in libertà il giorno di Natale in attesa del processo. Ma erano clandestini e la questura ha avviato per loro le procedure di espulsione. Questa mattina gli agenti si sono recati nella loro casa per prelevarli ed accompagnarli nel centro di immigrazione ed espulsione di Trapani. Quando hanno capito cosa stava per accadere, i due hanno reagito con violenza. Si sono rifiutati di seguire i poliziotti che hanno faticato non poco per farli salire in auto. Due agenti hanno rimediato delle ferite per fortuna lievi. Così, anziché portarli a Trapani, i poliziotti li hanno condotti nel carcere di Ragusa. L'accusa per loro è di resistenza a violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un'accusa che si aggiunge a quella di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi che avevano rimediato alla vigila di Natale. Potrebbero essere processati con il rito direttissimo e nel frattempo si avvieranno per loro le procedure di espulsione. Potrebbero essere processati con il rito direttissimo e nel frattempo si avvieranno per loro.